Ciao a tutti gli amici di Road Race Raid dal Marocco in un contesto un po' particolare ovviamente non siamo più nelle dune ma il Marocco è fatto anche di montagne giusto per un saluto e la conferma che ormai anche sulla mia pagina Facebook della mia partecipazione alla Dakar e tra l'altro con Nicolas Garzia carissimo Nico, ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto tante gare assieme in questa circostanza diciamo che siamo riusciti un po' a riunire gli interessi, le forze e il piacere di affrontare questa avventura abbiamo fatto questo viaggio in Marocco giusto per tastare un po' il terreno ritrovarsi un attimino per programmare tutto era sicuramente lo scenario migliore assieme ai big che vorrevano noi abbiamo fatto gli spettatori però tutto fa e tutto funziona per cui un saluto grande a tutti e seguiteci un saluto grande a tutti e ci vediamo in Dakar ciao e ci vediamo alla Dakar